Il mistero pasquale Lo Spirito Santo è il dono più grande, è la certezza di poter compiere le opere di Dio, di poter vivere in comunione con Lui, di vivere da Dio. E Gesù non vede l'ora di donarci lo Spirito Santo e di donarlo agli Apostoli, ai Suoi discepoli. Quando appare a loro, proprio nel giorno della risurrezione, stette in mezzo. Questo stette in mezzo ci ricorda l'albero della vita nell'Eden. Stette in mezzo. E disse loro, pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Vedono il Signore e lo riconoscono proprio nelle sue ferite, nelle sue piaghe, nei segni dell'amore più radicale, della croce. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ci fa capire Gesù che ora non può più essere presente in mezzo agli Apostoli, in mezzo a noi, visibile, pellegrino sulla terra. Ma non ci lascia orfani, non ci abbandona. Anzi, ci dona lo Spirito Santo. Detto questo, soffiò e disse, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. E con il dono dello Spirito Santo, dona agli Apostoli, ai discepoli, alla Chiesa, il potere di perdonare i peccati. Solo Dio può perdonare i peccati, è vero. Ma Gesù concede agli Apostoli, alla Chiesa, questo potere di misericordia. Sì, proprio nel dono dello Spirito Santo c'è la pienezza della comunione con Cristo e attraverso di Lui col Padre. Siamo una cosa sola in Dio, immersi nel vortice d'amore della Trinità. Accogliere lo Spirito Santo significa accettare di lasciarci trasformare da Dio. C'è realmente una nuova creazione, una risurrezione, una vita nuova per tutti. E allora vorrei concludere leggendo ciò che il Patriarca Atenagora I aveva scritto a suo tempo proprio per parlarci dello Spirito Santo e per farci comprendere quanto è indispensabile, preziosa, trasformante la sua presenza nella Chiesa. Tutto avviene per opera dello Spirito Santo Senza lo Spirito Santo Dio è lontano Il Cristo resta nel passato Il Vangelo è lettera morta La Chiesa una semplice organizzazione L'autorità un dominio La missione una propaganda Il culto una semplice evocazione La condotta cristiana una morale da schiavi Ma in Lui il Cosmo viene risollevato E geme nel travaglio del Regno Il Cristo risuscitato è vicino a noi Il Vangelo diventa potenza di vita La Chiesa significa comunione trinitaria L'autorità un servizio liberatore La missione una pentecoste La liturgia un memoriale e un'anticipazione L'agire umano viene divinizzato Ecco la pentecoste Ecco lo Spirito in noi Ecco la vocazione a cui siamo chiamati Per questo Dio ci ha creati Per essere uno col Padre Il Figlio e lo Spirito Santo E che davvero questa Domenica di Pentecoste Con la ricchezza della sua gioia Nel dono dello Spirito Santo Diventi per tutti voi un'occasione speciale Di unità, di fede e di speranza Buona Domenica e buona Pentecoste a tutti voi Domenica e buona Pentecoste a tutti voi